Benvenuti all'edizione delle 18 di Calabria News 24 in forma. Il procuratore capo di Reggio Calabria Federico Caffiero Derao in commissione parlamentare antimafia ha sottolineato l'aspetto legato alla sudditanza della popolazione del regino rispetto alle consorterie. Vediamo il servizio. Reggio è una popolazione soggiogata. L'allarme lo ha lanciato il procuratore della Repubblica Federico Caffiero Derao in commissione parlamentare antimafia. Nel territorio di Reggio le istituzioni sono fortemente isolate. Da un lato perché vi è una popolazione totalmente soggiogata dalla forza di intimidazione dell'andrangheta, dall'altra perché c'è confusione, non si sa con chi ci si rapporta e questo determina distanza tra popolazione e istituzione. Dice ancora il procuratore che vi sono dranghetisti che hanno aderito alla massoneria al Grand Oriente d'Italia, ma è cosa diversa dalla componente segreta riservata e quindi duata. Il riferimento è a tutte le inchieste degli ultimi mesi, da Fata Morgana a Region, a Mamma Santissima, ovvero all'ammasso drangheta e alla cupola degli invisibili, alla capacità della mafia regina attraverso il suo livello superiore di infiltrarsi nell'economia, nella politica, nelle istituzioni. La rete riservata è formata da componenti che restano occulti anche alla mossoneria. Non si possono esporre in nessuna forma evidente quali potrebbero essere le associazioni massoniche. Ancora cronaca, continuano con assiduità le attività di controllo sul territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Rende. Il servizio. Prosegue assiduamente l'attività di controllo da parte dei carabinieri di Rende. Nella giornata di ieri i militari della città d'Oltre Campagnano hanno denunciato quattro persone, due per tentato furto in abitazione, una per furto di portafogli ed un assuntore di sostanze stupefacenti. Per il tentato furto in un'abitazione sono stati deferiti all'autorità giudiziaria un trentenne e un quarantatreenne, entrambi rumeni. Per il furto di portafogli, avvenuto lo scorso mese di settembre, in un bar è stato denunciato un uomo di 51 anni di San Benedetto Ullano, mentre alla Prefettura di Cosenza è stato segnalato un trentaquattrenne di Geatauro perché nel corso di una serie di controlli, a bordo della sua auto, è stato rinvenuto un grammo di marijuana. E ci spostiamo a Fuscaldo, dove è aperto il bando per il biegno dell'Istituto Tecnico Superiore Tirreno di Fuscaldo Marina. Il servizio è di Fabrizia Arcuri. Per rispondere alla domanda delle imprese, che chiedono sempre nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche, esistono le scuole speciali di tecnologie, che costituiscono un canale formativo di livello post-secondario, parallelo ai percorsi accademici e riconosciute dal Ministero. Gli istituti tecnici superiori, che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria, sono rivolti ai post-diplomati. Nella forma della fondazione di partecipazione comprende scuole, enti di formazione, imprese, università e centri di ricerca ed enti locali. Diversi in Calabria, ognuno con un settore specifico. Uno di questi è Fuscaldo Marina, in provincia di Cosenza, con sede distaccata anche a Vibo Valencia, da dove giungono iscritti anche da fuori regione. L'assurdo tecnico superiore di Fuscaldo, nell'ambito delle nuove tecnologie per la vita, ha attivato due percorsi formativi. Uno è quello del tecnico superiore per la costruzione e la produzione delle apparecchiature biomedicali, l'altro invece è quello dei processi biotecnologici a livello industriale ed ambientale. Quest'anno, per la verità, abbiamo introdotto anche un terzo percorso formativo nel settore dell'armamento ferroviario. L'ITS, come lei diceva, effettivamente è quello che dà continuità a quello che è il percorso di attività scuola-lavoro delle scuole di secondo grado. Vi accedono i ragazzi già diplomati, i giovani già diplomati, per approfondire ed ottenere poi un diploma superiore di alta specializzazione tecnologica, così come richiede il mondo del lavoro, mondo del lavoro che è parte integrante dell'ITS. Infatti, questi li hanno voluti le aziende, le imprese, gli enti pubblici e privati che costruiscono il percorso formativo. Le procedure per l'avvio del nuovo corso hanno ritardato le iscrizioni al bando per il nuovo biennio, che rimangono aperte oltre la scadenza ufficiale fino a data da definire. Quindi io inviterei tutti gli interessati a guardare chi siamo, quali sono le opportunità, le enormi opportunità, che il mondo del lavoro, non noi, il mondo del lavoro perché è il mondo del lavoro che ha voluto l'ITS, che il mondo del lavoro offre ai nostri giovani andando sul sito itstirreno.it. Lo stage o il tiroginio che è di 600 ore da modo ai ragazzi di farsi conoscere all'interno delle aziende dove poi troveranno uno sbocco naturale al mondo del lavoro. E ora a Crotone, dove è stata arrestata una donna di 35 anni, Angela Alupe Badante Rumena, che dopo aver narcotizzato e picchiato un anziano ultraottantenne invalido che abita con la moglie costretta a letto per gravi patologie degenerative, si era impossessata di pochi risparmi, 200 euro e di alcuni gioielli, compresi gli anelli del cinquantesimo anniversario di nozze che la coppia teneva in casa. Il vaccino contro l'infezione da papilloma virus, detto HPV, è disponibile ora anche in Calabria, ma vediamo il servizio. A richiamare l'attenzione sull'importanza del vaccino e l'utilità di proteggersi da giovanissimi da questo virus, sono stati 60 esperti delle principali strutture pubbliche della regione, che hanno partecipato all'indagine nazionale sull'HPV e cancro esiguita da data analisis. L'infezione da HPV determina una serie di tumori nella donna, come il tumore del collo dell'utero, il tumore della vulva e della vagina, ma anche dei tumori in entrambi i sessi, come il tumore all'ano e il tumore all'orofaringe. È determinata da un virus che normalmente si localizza sulla parte superficiale della mucosa e la persistenza dell'infezione e determina delle lesioni cosiddette precancerose che precedono il tumore. La vaccinazione dà dei vantaggi notevoli, soprattutto quello di prevenire migliaia di casi di tumori, ma anche decine di migliaia di lesioni precancerose che, anche se trattate queste chirurgicamente, comunque determinano un impatto notevole sulla psiche della donna e anche dei parti prematuri. Il momento più indicato in cui le adolescenti rispondono meglio al vaccino è tra i 10 e i 11 anni. Innanzitutto le infezioni da papillomavirus si trasmettono per via sessuale. Allora la scelta delle 11 anni nasce dal ragionamento che bisogna intervenire in maniera preventiva prima che le ragazze contraggono questo tipo di infezione e quindi prima che inizino la loro attività sessuale. Studi ci dimostrano che nella nostra popolazione l'età di 11 anni è quella più adatta. Inoltre si è visto che la vaccinazione fatta a quest'età alle adolescenti è anche più efficace rispetto ad età successive. Nonostante questo vaccino sia il primo a prevenire un tumore, sia tutt'oggi uno strumento fondamentale contro l'infezione da papillomavirus, solo la metà dei genitori ne ha conoscenze, ha fatto vaccinare le proprie figlie. Cause, la disinformazione e la paura dei vaccini che ha alimentato in questi ultimi periodi allarmismi, non certo giustificati, così come diversi esperti hanno tenuto a precisare e che invece lanciano un altro messaggio. Gli studi clinici ci dicono che è un vaccino estremamente efficace e sicuro, perché gli eventi avversi sono rari, mentre gli eventi più comuni sono banali, transitori e benigne che sopravanzano decisamente quello che può essere invece l'efficacia del vaccino, che riesce a coprire il 90% delle forme di carcinoma del colo dell'utero causato dalle infezioni del papillomavirus. C'è da dire inoltre che il vaccino è sicuro perché non è derivato dal virus, né lo contiene, quindi non può mai causare la malattia. Ritorniamo in studio dove nel frattempo ci ha raggiunto il dottor Giuseppe Zappa di Union Fidi. Benvenuto dottore Zappa. Parliamo con lei di un seminario che Union Fidi organizzerà per il prossimo 21 ottobre che ha una finalità ben precisa. Spieghiamo quale. Il seminario del 21 ottobre è uno dei tre seminari che Union Fidi in partnership con un'industria calabria e gli ordini dei commercialisti ha inteso organizzare ed è rivolto essenzialmente alle imprese e il tema è percorsi per agevolare l'accesso al credito delle PMI. Nel seminario intendiamo fornire ognuno per il proprio ruolo, quindi le banche, i commercialisti per l'appunto, le aziende e anche il Confidi, quindi Union Fidi nel nostro caso, gli strumenti, le indicazioni affinché il rapporto con gli studi di credito possa essere più agevole e meno contrassegnato da ostacoli ed incomprensioni. Ecco, chi può partecipare a questo seminario? A chi è indirizzato? Il seminario intanto è un seminario che fa parte anche della formazione continua dell'ordine dei commercialisti di Cosenza, quindi intanto i commercialisti saranno i primi attori di questo evento, ma soprattutto le aziende, quindi tutte le imprese cosentine sono invitate a partecipare e a contribuire a questo incontro. Peraltro nel panel di quali interverranno c'è anche l'amministratore della Amarelli, Fortunato Amarelli che come sappiamo è una delle realtà imprenditori più importanti e di eccellenza del nostro territorio. Bene, allora io le auguro buon lavoro e buon seminario e ovviamente invito tutti a partecipare il 21 ottobre, dicevamo, ricordiamo l'appuntamento... A Confindustria Cosenza, quindi a Cosenza in via Tocci alle ore 15. Grazie, grazie dottore Zappa. Grazie. Noi continuiamo con il nostro giornale, continuiamo con la pallavolo, dopo due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, la Tonno Callipo Vibo Valencia è chiamata a riscatto contro il Morfetta, ma vediamo il servizio. Domenica scorsa la squadra ha sentito l'esordio in casa, ora bisogna stare in campo in maniera diversa. La pensa così il coach della Tonno Callipo Vibo Valencia Valdo Cantor che ha preparato la sua squadra al secondo impegno consecutivo in casa. Dopo la sconfitta all'esordio sul campo di Trento, che francamente può starci in considerazione dello spessore dell'avversario, è arrivata anche la seconda sconfitta, questa volta al Palavalenza contro Monza, una buona squadra ma non al livello di Trento. Le proporzioni della sconfitta sono state però ancora più pesanti e questo un po' preoccupa, ma siamo solo ad inizio stagione e, come sottolineato allo stesso tecnico, con gli allenamenti e anche giocando gare di campionato la squadra certamente migliorerà. Una prima occasione di riscatto arriverà già domenica, a Vibo arriva a Molfetta, la squadra allenata all'ex Vincenzo Di Pinto. Entrambe le squadre sono a quota zero, l'unica differenza sta nel fatto che Molfetta ha vinto un set, la Tonno Callipo ancora no. Una delle due squadre quindi, se non entrambe, abbandoneranno lo zero, ma per farlo servirà una Tonno Callipo ben diversa da quella vista domenica scorsa. E per questa edizione di Calabria News 24 informe tutto, io vi aspetto alle 20.45 con ulteriori aggiornamenti. Grazie e a più tardi.